la ricerca è successo all'eclerc, da tutte le parole è caduto il soffitto e io mi sono trovata 5-6 metri prima, abbiamo sentito un boato, è caduto, lo conto soffitto, la ricerca è caduta, i cristiani hanno potuto capire, tutti gli addobbi del Natale, ora non si capisce perché, allora praticamente io ero a 10 metri prima, scusate se è poco, questo sento particolarmente fortunatissimo, da un tot. Ma tanto non ci vuole, in effetti.